Allora praticamente buonasera, come vi avevo promesso, sono qui al Greenwood per l'ultima serata prima che il Greenwood chiuda e vada in ferie per una settimana. Nel frattempo ho preso un'ottima Coca-Cola. Io potrei anche inquadrare la comitiva, però non la inquadro perché poi vogliono essere pagati e quant'altro, quindi non ci sto, ci vediamo. E niente, praticamente adesso in attesa delle pizze, praticamente che ci arrivano pizze e quant'altro, cose buonissime qui al Greenwood, sono uscito fuori a fumare una sigaretta. Allora sono arrivate le pizze, io ho preso una ex rustica praticamente che comprende salsiccia, cipolla e oliva nera. Poi c'è la solita fumetta, 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 poi c'è la solita insalata, poi c'è la solita margherita e poi c'è la solita. Non inquadriamo i commensali, ma inquadriamo il commensale. E qui manca ancora un piatti, mi raccomando è il Bit Point ragazzi, il Bit Point, la pizza del presidente. Recensione super positiva per l'espressino chiaro. Questo è un espressino chiaro, da tutte le altre parti chiedi un espressino chiaro e te lo portano con tantissimo caffè, ci arriva l'espressino normale. Invece questo è chiaro. Ragazzi al Greenwood, al Greenwood, al Greenwood. Ragazzi!